Come si tratta di l'evento di Humanitas Medical Care? Per esempio adesso che arriva l'estate se per caso un bambino sbuccia un ginocchio l'importante è lavare prima con acqua e togliere tutto lo sporco dalla cute, passare con un disinfettante o una garza la zona interessata e poi applicare un bel ciarotto.